Musica Ah, adoro l'estate con questo bel caldo e queste previsioni sempre fantastiche Domenica 28 agosto L'anticiclone garantisce sulla Lombardia una domenica ben soleggiata e calda Cremona compresa Qualche addestamento potrà manifestarsi nel pomeriggio sui rilievi montuosi Ma ancora con basso rischio di fenomeni Temperature stabili o lieve aumento con clima un po' oposo Temperatura sui 33-34 gradi Sul resto dell'Italia bel tempo, salvo sulle Alpi dove ci saranno temporali isolati Caldo intenso in pianura padana e nelle pianure toscane, bel tempo al sud e sulle isole Previsioni fantastiche e un caldo fantastico Peccato per questa umidità che fa ricciare un po' i miei capelli Ma comunque sono serena perché su Coevent TV splende sempre il sole